False associazioni di volontariato, in realtà vere e proprie attività commerciali e imprenditoriali messe in piedi con la finalità di ottenere consistenti contributi pubblici, nonché simulare assunzioni, licenziamenti, disoccupazioni e acquisti di vario materiale. L'inchiesta approda al Tribunale del Riesame. I difensori dei 25 indagati ai quali sono stati sequestrati i beni, fra gli altri gli avvocati Leonardo Marino, Basilio Vella, Roberta Russo e Giovanni Salvaggio hanno chiesto in udienza ai giudici di annullare il provvedimento del GIP Alessandra Vella, che peraltro ha colto solo in parte la richiesta del pubblico ministero Chiara Bisso, che aveva proposto pure arresti e misure cautelari per gli indagati. Il giudice è in considerazione che le associazioni al centro dell'indagine, Avio, Spic, Trinacrea Ollus, Croce Azzurra Ligure, Croce Azzurra Canova e Croce Italia non sono più operative e non hanno convenzioni con aziende sanitarie. Aveva ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere attuali le esigenze cautelari. Al tempo stesso è stato disposto però il sequestro dei beni, titoli finanziari, terreni e appartamenti per un ammontare di circa 3 milioni di euro degli indagati. Su questo nei prossimi giorni si pronuncerà il Tribunale del Riesame. Le accuse contestate sono di associazione a delinquere finalizzata a truffe, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre che falso, truffa e corruzione. L'indagine è stata avviata nel 2014 dalla Guardia di Finanza.